Quindi il gioco del tra cinque anni e il parlare del nostro futuro... Poco intelligente con il senno di poi, vero? Cioè, io lo capisco. Se la prendessi, cambierebbe tutto. Non pensavo che l'avrei avuta un'altra volta. Allora siamo in due. Mia madre oggi ha minacciato di distruggerla. E non l'ho fermata. Perché no? Perché la tua fantasia del tra cinque anni mi ha spaventato. Ero nel panico. Damon, era solo uno stupido gioco. Tutto ciò che io vedo tra cinque anni sei tu. Mentre tu vedi un futuro intero. E voglio che tu lo abbia, che tu viva in una grande città, che diventi chirurgo e che abbia una famiglia. Allora perché l'hai tenuta nascosta per così tanti giorni e hai rischiato di farla distruggere? Perché sono un idiota. E sono egoista. Sono così innamorato di te che non voglio perderti. Questo è... È troppo complicato. La daremo a qualcun altro? Alla mamma di Bonnie? O a Caroline? Ho già cercato di darla via. Va bene, ma sono sicura che ci sono moltissimi vampiri che darebbero tutto per ricominciare. Tu prenderai la cura, Elena. Beh, io non la voglio, Damon. Neanch'io voglio vivere senza di te. Tu prenderai la cura. E anche io la prenderò. Cosa? Non voglio affrontare il mio futuro senza di te. Diventerò umano anch'io. Non voglio affrontare il mio futuro senza di te. No voglio affrontare il mio futuro senza di te. No voglio affrontare il mio futuro senza di te. No voglio affrontare il mio futuro senza di te. No voglio affrontare il mio futuro senza di te. Grazie a tutti.